Una nuova cultura vocazionale che sappia leggere con coraggio la realtà con le sue fatiche e le resistenze, ma che sia capace anche di sognare in grande. È ciò che il Papa ha chiesto agli 800 partecipanti al convegno promosso dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della CEI, incontrati in Aula Paolo VI. Il Pontefice ha insistito su ciò che serve oggi per essere guide e credibili ed entrare in sintonia con i giovani che vivono la vocazione, privilegiare la via dell'ascolto, ma soprattutto raccontare con gioia e verità la bellezza dell'essere innamorati di Dio, mantenendo fede a questo primo amore. Ai sacerdoti e ai formatori ha chiesto di essere seminatori di speranza e fiducia per colmare il profondo senso di smarrimento che attraversa la gioventù e che le impedisce di compiere scelte forti come il sì totale e generoso di una vita donata a Dio e agli altri. La priorità dell'annuncio vocazionale, ha proseguito il Papa, non è l'efficienza di quanto facciamo, piuttosto l'attenzione privilegiata alla vigilanza e al discernimento e avere uno sguardo capace di scorgere la positività negli eventi umani e spirituali, mettendo in luce le potenzialità più dei limiti. Il Pontefice ha esortato poi i giovani presenti ad andare oltre le paure che chiudono in se stessi e paralizzano ogni desiderio di bene, certi che Dio si fa carico di ogni fragilità. Infine ha chiesto di percorrere strade nuove nell'annuncio del Vangelo con quella pazienza amorevole che non teme le inevitabili lentezze e resistenze del cuore umano.